Un mercato immobiliare riflessivo, quello di Grosseto e della provincia. I dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa riguardo all'andamento dei prezzi di mercato, alle compravendite. Come sta andando il mercato in provincia di Grosseto e nel capoluogo? Sta andando bene con una riflessione che è dovuta sicuramente al momento storico che viviamo, quindi la guerra, il fattore dell'inflazione e soprattutto anche il problema dei tassi, dei mutui e in qualche modo influenzano il mercato immobiliare. Qual è il prezzo medio di un immobile? Intorno ai 1.600-1.800 euro per un prezzo medio di un appartamento standard, mentre per il nuovo oltre 3.000-3.200-3.400, fino ad arrivare addirittura nel capoluogo anche ai 4.000 euro al metro quadrato per gli immobili che attualmente hanno dei requisiti particolarmente pregiati. Quanto riguarda invece la Toscana, qual è il dato? Il mercato immobiliare è sicuramente in crescita fino al 2021-2022 e anche la Toscana risente di questo dato, quindi un momento riflessivo, un mercato probabilmente che supera, pensiamo, una piccola flessione salvo recuperi di fine anno. Nel numero delle compravendite percentualmente rispetto agli anni precedenti, che cosa possiamo dire? Mediamente siamo intorno a un 10-15% in meno di valori immobiliari di vendite. Il mattone è sempre bene il rifugio? Sicuramente sì. Le zone di mare qual è la più pregiata? Abbiamo una costa estremamente pregiata, prima fila Castiglione della Pescaia, Rocchette, Roccamare, anche Puntala e sicuramente anche gli immobili che sono per esempio all'Argentario. Delle vendite importanti, tantissima richiesta, poca offerta, c'è un ottimo rialzo anche della zona della costa d'Argento.